Sono alla chiesetta di Santa Margherita nel comune di Casargo. Questa è una chiesetta di epoca passata. Guardate com'è caratteristica, guardate che bella visuale, che bella visione che c'è, con le bellissime montagne intorno, i bei prati, un edificio di carattere molto rustico, ma molto pregiato. Questo è un video soprattutto per l'amico Aldo, che è sempre in cerca di luoghi di epoca passata. Questo è un bellissimo luogo di epoca passata. Tenetelo presente, Sandro.